Un'altra Pasqua in zona rossa pesa gravemente sul settore del commercio, del turismo e dei servizi. Tra Milano, Lodi e Monza Brianza infatti l'impatto sarà molto pesante. A partire dalla settimana santa fino a subito dopo le festività pasquali, l'ufficio studi di Confcommercio ha stimato una perdita di fatturato di 228 milioni di euro, meno 53,4% rispetto al periodo dell'ultima Pasqua senza Covid, quella del 2019, e soltanto nel weekend pasquale le perdite sono di 120,4 milioni. Un'altra Pasqua in lockdown sono ulteriori danni importanti per le imprese della città di Milano e dell'area metropolitana. Siamo a 228 milioni di euro di perdita e con un mese di zona rossa arriveremo ad avere un danno di oltre un miliardo di euro. È fondamentale pertanto avere degli indennizi veri per le imprese con il prossimo scostamento di bilancio, ma soprattutto far riaprire le imprese in sicurezza. A Milano, Monza Brianza e Lodi sono 69.500 le attività del terziario che subiscono gli effetti più rilevanti sui ricavi per il blocco di Pasqua, veri e propri crolli di fatturato, in particolare per ristorazione e pubblici esercizi, meno 80%, servizi ricreativi, meno 75% e commercio al dettaglio, meno 70,7%. Cale significativi anche per i servizi alla persona e i trasporti.